E' passato appena un giorno dall'ufficializzazione del ripescaggio della Cavese in Serie C e i tifosi metelliani ieri sera sono scesi in piazza per festeggiare, benché non molto numerosi. Parecchi ultras non se la sono sentita al momento di riversarsi in centro per rispetto di altre realtà sportive che hanno perso il calcio professionistico proprio nelle ultime settimane. Quindi è stato un festeggiamento un po' in tono minore e ovviamente i tifosi che abbiamo incontrato in centro sono particolarmente soddisfatti perché, come il sindaco, anche l'amministratore Massimiliano Santoriello è stato di parola. Sono molto contento perché mi ricordo le vecchie vittorie della Cavese, dalla D alla C di tanti anni fa, quindi l'emozione è la stessa, anche se abbiamo qualche anno in più. E a questo punto voi come seguirete la C? La seguo da internet perché io sono 800 km da Cava, quindi solo così, e quindi mi collegherò al sito. Voglio dire a tutti i capesi che quest'anno a Cava c'è un presidente, un vero presidente e tutta la città deve portare il rispetto e devono riempire lo stadio la domenica perché ha fatto un mare di sacrifici per portarci in Serie C e forse ci porterà ancora più in alto. Per fare questo dobbiamo stargli vicino. Mi raccomando i capesi, tutti allo stadio. Quando ha preso del ripescaggio della Cavese in Serie C nella terza serie nazionale, come l'ha accolto? Che cosa ha pensato? Con una massima della gioia perché Cava è una cittadina che merita quella posizione in C, non meritava di stare in quella posizione in cui stavamo e grazie a questo nuovo presidente signor Santoriello che ci ha dato la possibilità di portarci in C1, non come quella precedente che ci aveva solo illuso con le parole, avuto meno a tutti gli impegni che era assunto e sono convinto che faremo un grande campionato e non voglio illudermi, con la mente di questo signore potremmo aspirare anche a qualcosa in più perché lui ci tiene molto per la Cavese e come adesso c'è tornato un entusiasmo che era morto a Cava. Io ieri ho visto gente risuscitare come il signor Giovanni Punzi che non vedeva la partita della Cavese da dieci anni, ieri ho avuto fino davanti al cinema a 90 anni per venire a festeggiare questa promozione. E la notizia dell'ammissione della Cavese alla Serie C è stata festeggiata all'ora di pranzo dagli stessi calciatori proprio al ristorante dell'albergo che li ospita nel ritiro di Sturno, con mister Giacomo Modica che ha detto pubblicamente di essere onorato di guidare il gruppo che gli è stato messo a disposizione e con Claudio De Rosa, attaccante e calciatore bandiera della Cavese che ha detto di aver visto realizzato il suo sogno, quello di vedere la sua squadra del cuore nuovamente tra i professionisti. Nel pomeriggio poi i giocatori stessi hanno ricevuto la visita di un gruppetto di sostenitori che hanno portato il bandierone con scritto C1 per festeggiare il ripescaggio.